Importanti lavori di manutenzione stradale in vista per le gallerie Lovere e Costa Volpino della strada statale numero 42 del Tonale e della Mendola per un importo di un milione di euro. Una perizia tecnica ha messo in evidenza problematiche che riguardano criticità legate al sistema attuale di captazione delle acque. L'intervento interessa diversi tratti sotterranei e mira a sanare vulnerabilità e criticità manifeste che compromettono la durabilità dei manufatti, la stabilità del manto stradale e comportano percolazioni e ristagni d'acqua anche di notevole entità. Nella galleria Lovere, che si sviluppa per una lunghezza complessiva di 2860 metri, si evidenziano problematiche legate all'infiltrazione diffusa di acque, in parte già captate mediante il posizionamento di lamiere di scolo e i criticità del ristagno in banchina, principalmente per l'inedeguatezza della canaletta di drenaggio laterale. Il collettore principale necessita di interventi manutentivi per una sua completa riattivazione e lo stesso per le tubazioni laterali e le caditoie presenti in banchina. Inoltre, oltre alla pulizia delle banchine, verrà ripristinato il manto stradale. Nella galleria di Costa Volpino, che si sviluppa per una lunghezza complessiva di 2315 metri, si evidenziano problematiche legate all'infiltrazione di acqua in galleria in ambiti più localizzati rispetto alla galleria di Lovere. In alcuni punti si verificano problematiche legate ad acqua in risalita per via del collettore principale che necessita di interventi manutentivi generalizzati di spurgo per una sua completa riattivazione del sistema di drenaggio. Si provvederà anche alla pulizia delle banchine e al ripristino di alcuni tratti del manto stradale. Per gli interventi c'è già un progetto esecutivo. L'importo della gara di appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, sarà di 813.000 euro.